Io sono, come molti di voi sanno, al secondo mandato, ho iniziato il mio primo mandato da Sessore della Cultura Regione nel 2010 e una delle prime cose che tentammo di fare e che proponemmo alla Commissione della Conferenza Stato-Regioni fu esattamente quella di proporre al governo, all'allora governo, di intervenire nella materia di defiscalizzazione per gli investimenti di privati e anche singoli cittadini nel campo della cultura. Ricordo che quello fu l'anno del 2010 in cui l'allora Ministro della Cultura, Ministro poeta della cultura, si presentò in Parlamento e nell'illustrazione del suo programma disse che lui aspirava a un paese in cui il pubblico si ritraesse progressivamente fino a scomparire a favore di un privato che intervenisse unicamente nel campo al sostegno della cultura in Italia. Contemporaneamente però l'allora Ministro Tremonti invece bocciò in maniera, diciamo, drastica l'ipotesi di intervenire in termini di defiscalizzazione delle spese e degli investimenti della cultura da parte dei privati. Quindi delle due l'una un pubblico che doveva ritrarsi a fronte di un privato che però non veniva favorito e sostenuto per l'intervento. A differenza di tutti gli altri paesi, soprattutto quelli di, diciamo, l'estrazione anglosassone, che laddove il pubblico arretra comunque favorisce e implementa le misure per favorire il privato a intervenire nel campo di investimento della cultura. Devo dire che, e non lo dico per piageria, con Dario, con il Ministro Franceschini si è cambiato decisamente marcia in questa direzione, con questo Governo, l'intervento dell'Art Bonus e l'ampliamento e l'implementazione anche della possibilità di intervento dell'Art Bonus, ci offre opportunità sicuramente molto importanti. Io sono tra coloro i quali ritengono che il pubblico non può e non deve arretrare nel campo di investimento in cultura, ma sicuramente c'è la necessità di una più forte sinergia rispetto a quella che è nella tradizione italiana, perché c'è una specificità tutta italiana in questo, in una ritardo e un'arretratezza da parte del privato nell'investire e l'intervenire. Anche oggi che gli strumenti ci sono, vengono dati, possono essere sicuramente ulteriormente ampliati, poi dirò solo una cosa su questo, ma intanto già sono molti, appunto l'Art Bonus dà notevoli possibilità, mi pare che ancora abbiamo necessità di coinvolgere di più il privato, il privato deve sentirsi più responsabilizzato e dirò anche perché, perché io ritengo questo importante. Dicevo, il pubblico non deve e non può arretrare, noi come Regione abbiamo fatto uno sforzo con la nuova Giunta, il nuovo Presidente Bonaccini che si è impegnato a triplicare le risorse destinate al bilancio della cultura nel corso della legislatura, che poteva essere ritenuta dai più una promessa elettorale che invece ha già visto una concreta realizzazione. Con il bilancio previsionale del 2016 noi abbiamo già raddoppiato il bilancio della cultura rispetto a due anni fa. Questo ci ha consentito, ahimè correggere in difetto il dato dato da Virginio, la Regione è arrivata a 3 milioni di euro in maniera strutturale di investimento e non 3-3 sul teatro comunale, ma raddoppiando quello che era l'investimento fino a due anni fa e fermo da diversi anni. Cioè da un milione e mezzo siamo passati a 3 milioni già nel 2015 e lo rendiamo strutturale dal bilancio del 2016. L'investimento che facciamo sulla legge dello spettacolo, la legge 13 che ora siamo prossimi al rinnovo del nuovo piano triennale e noi ospichiamo anche dentro questa legge di tutela insieme all'assessore Bianchi di poter realizzare una legge sulla musica che mutuando quella sul cinema che abbiamo approvato solo due anni or sono e che sta già dando i suoi primi importanti risultati possa intervenire prevalentemente nel campo della formazione e della produzione musicale, quindi il campo dell'impresa, della formazione di addetti e maestranze nel campo dell'impresa soprattutto in campo musicale. Ovvio che tutto questo deve vedere una forte sinergia appunto con il privato perché più volte io mi sono trovato a incontrare imprenditori di questa regione che mi dicono ma che interesse ho? Io non ho interesse a vendere in questa regione, io vendo già qui in Emilia Romagna, io vendo già in Italia, io devo vendere all'estero i miei prodotti quindi non mi interessa associare il mio nome, il mio marchio a un patrimonio culturale di questa regione. Io ritengo che in questo c'è un limite, un limite appunto culturale probabilmente anche dal nostro sistema di imprenditori, non tutte ovviamente, non voglio generalizzare perché ci sono anche casi di eccellenza invece in positivo, casi virtuosi, ma è quello che invece dobbiamo comprendere fino in fondo. Quando noi spendiamo e parliamo molto e ci riempiamo la bocca della valore del made in Italy, fondamentalmente il made in Italy che cos'è? Non è un marchio vuoto il made in Italy. Quando noi vendiamo all'estero il made in Italy vendiamo una componente emozionale che c'è dentro il made in Italy e quella componente emozionale è rappresentata esattamente dalla nostra storia, dalla storia della nostra cultura, della nostra musica, delle nostre arti, delle nostre spessività, del nostro teatro, della nostra opera e questa è la componente emozionale che c'è dentro il made in Italy. Il made in Italy non è un involucro vuoto, non è soltanto il manufatto, il valore pregiato del manufatto, ma è quello che c'è dietro quel manufatto. La storia di questo paese che anzi forse troppo poco a noi abbiamo valorizzato e valorizziamo ancora oggi. Ecco perché è importante coltivare e non solo in qualche modo custodire la tradizione della nostra cultura, ma evidentemente anche come questa cultura noi la facciamo incontrare con l'innovazione, muovendoci sul crinale della tradizione e innovazione. E credo che sotto la direzione di Nicola, Sani, direzione artistica di Mariotti, si sta dimostrando esattamente nel teatro comune di Bologna come proprio noi possiamo coniugare tradizione e innovazione, come la tradizione dell'opera anche la coniughiamo anche con la capacità di innovazione, di una proposta culturale innovativa e contemporanea. Magari ci scontriamo anche con diffidenze e pregiudizi inizialmente, ma questi pregiudizi e questa diffidenza possiamo anche romperla proprio attraverso anche una sorta di educazione del pubblico. Passatemi il termine, si usa così nell'ambiente di parlarlo anche se può apparire brutto. Ecco quindi io credo che questa è l'importanza fondamentale, però mi sia consentito solo un'ultima annotazione. Quando parliamo di cultura e di impresa non parliamo di due mondi separati. Purtroppo per troppo tempo si è ritenuta appunto l'impresa è qualcosa di appunto che ha un suo percorso autonomo da quello della cultura che sicuramente ha un suo valore intrinseco, non sto qui, io vedo moltissimi operatori della cultura che immagino non c'è bisogno con loro e con voi di mettere in luce quello che è il valore intrinseco della cultura, ma la cultura ha un valore già oggi in Italia, in regione in Emilia Romagna, un valore di impresa, di occupazione. In Emilia Romagna rappresenta il 5% del prodotto interno lordo di questa regione, cioè contribuisce alla formazione della ricchezza regionale nella misura del 5%. Abbiamo 32.000 imprese che operano nel campo della cultura e della creatività, quasi 80.000 addetti, più di 10 volte gli addetti nel gruppo Fiat presente nella nostra regione al netto dell'indotto. Eppure, come dico tante volte, se un impianto produttivo della Fiat oggi minacciasse la chiusura si mobiliterebbero forze sociali, sindacali, istituzionali, politiche, ma se metà di quelle 32.000 imprese che ahimè per il 73% sono a carattere individuale minacciassero la chiusura, probabilmente questo passerebbe nell'indifferenza generale, eppure contribuiscono in maniera importante all'economia del nostro territorio. E quindi c'è necessità anche appunto di intervenire e magari vedere come l'art bonus possa essere esteso anche nel sostegno dell'impresa. Penso ad esempio all'impresa musicale, la produzione musicale già interviene per gli under 30, vedere magari se possiamo anche estenderlo a più, perché c'è anche un campo produttivo, qui parliamo di centinaia di imprese, di migliaia di addetti. Nel campo del cinema, diciamo, quando abbiamo approvato la legge, parliamo di 800 imprese per quasi 4.000 addetti, regolari in questa regione. Nel campo della musica i dati sono leggermente inferiori, ma nel campo della musica molti degli addetti non sono regolari, potremmo addirittura quadruplicarli, quei dati che sono per il cinema. Noi dobbiamo fare emergere questo, portarlo in immersione, renderli regolabili, renderla buona occupazione, ma anche un'occupazione di grande qualità. E questo si intreccia con quello che è raggiamento anche che abbiamo fatto, che facciamo con il Presidente, con Bianchi, che abbiamo fatto ed è presente nel patto per il lavoro, dove nel patto per il lavoro che abbiamo sottoscritto a luglio abbiamo detto creiamo nuova occupazione, ma buona occupazione. E abbiamo invitato nel vettore dell'economia, della cultura e della creatività un vettore fondamentale su cui investire questa scommessa. Io credo che questo è quello che noi dobbiamo fare, credo che gli strumenti che oggi ci sono dati a disposizione dai provvedimenti presi dal Ministero possano aiutarci ulteriormente a realizzare questa scommessa. Grazie.